arrivati arrivati in alloggio in hotel ora io sono cotto abbiamo l'altro cotto cotto due cotto per due ci siamo ciao il viaggio è stato abbastanza abbastanza carico c'era parecchio traffico e niente siamo siamo arrivati abbiamo conosciuto la figlia di gaitano gaitano trovato ci hanno mostrato un po quello che faremo domani e niente adesso stavamo tirando giù un briefing su appunto che tipologie di foto foto dobbiamo dare dato che è un artista molto colorato diciamo così lui è un artista quello che abbiamo visto foto dei piatti che ha utilizza molto colore noi dobbiamo colore su molti sfondi bianchi questo non sempre può essere un aspetto positivo dobbiamo cercare di dare un qualcosa comunque di diverso ai piatti che fa alle opere che faccio ma veramente un pittore lui quindi bisognerebbe un attimino sfruttare questa questa capacità di dare colore di dare immagini all'interno dei piatti lui da quello che abbiamo visto crea proprio delle figure delle forme con esatto c'è molto molto schillato sul 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 comporre questi piatti a livello scenografico livello fotografico quindi ci concentreremo soprattutto molto sui sui piatti basta